e trovandomi così in una situazione un po' diversa da quella in cui ero tanti anni fa ho pensato ma io non sono più una virologa perché io non ho un laboratorio dal 2012 io ho lasciato il mio laboratorio che è il laboratorio di referenza europeo per l'influenza aviaria il mio ex gruppo e l'ho lasciato per seguire Mario Monti in politica e poi sono stata tre anni e mezzo parlamentare poi mi sono trasferita negli Stati Uniti e adesso dirigo un centro multidisciplinare quindi ho fatto il virologo per tantissimi anni ma adesso così come sono ex parlamentare secondo me posso anche fare questo, posso mollare e dire su una ex virologa